Via Loria, Cassola, da un giorno all'altro sono spuntate queste barriere. Strada chiusa e per il signor Daniele Baron, titolare di una ditta che alleva Vitelli, è iniziato l'incubo. I camion che scaricano il bestiame non possono più passare perché per le altre due vie d'accesso c'è il divieto di transito per i mezzi pesanti. Questa era l'unica possibilità per arrivare alla sua azienda. Ho consegne di Magimer quasi tutte le settimane, qui arrivano col camion rimorchio o con il billico. Di conseguenza non ci sono altre vie di fuga sia per arrivare che per andare via. Perché dall'altra parte dove sostanzialmente la strada è aperta però c'è il divieto di transito e i camion. Ma comunque se entrano non riescono più a fare, non possono fare 400 metri di retromarcia per uscire. Evidentemente il problema non riguarda solo il signor Baron. In pochi minuti, visto la nostra presenza, si sono radunati vari residenti che hanno voluto dire la loro. Attaccano l'amministrazione. Com'è stato possibile che il comune abbia chiuso una strada provinciale? Mi sono sempre passato questa strada qua. È una strada provinciale perché su Google immette che è una strada provinciale 90. Via Loria, strada provinciale 90. A voi cittadini vi lascio parlare a voi. Quando devo lavorare sono sempre passato da questa parte. Sono 57 anni che ho, sono sempre passati da questa parte. E adesso improvvisamente stoppa la strada. Adesso mi trovo con la strada chiusa che non posso più passare. Devo proprio fare il giro per fare certi lavori. Io chiedo che ci sia un incontro con il sindaco e con le parti competenti. Perché se viene definito che questa è comunque una provinciale e c'è un problema di competenza, è giusto che ne parliamo e che vediamo chi è competente per. La soluzione la si può magari trovare, però bisogna essere tutti insieme e parlarne perché in questo modo ognuno dice la sua ma non si arriva da nessuna parte. Andremo dal sindaco Maroso per chiedere spiegazioni.